È d'accordo con quello che ha detto Molinari? Lei come valuta il governo Draghi? Che peraltro avrebbe già dovuto varare anche il decreto a sostegni che il mondo produttivo aspetta con ansia, no? Ma insomma dobbiamo dargli tempo, nel senso che sono arrivati da poco tempo, si sono organizzati. Io credo che i paletti, il nostro Premier, li aveva dati già in un articolo che scrisse per il Financial Times in piena pandemia l'altro anno. E sono paletti legati all'ambiente, quindi il rispetto dell'ambiente, ai giovani, al mondo femminile. E quindi, voglio dire, e soprattutto ha un atteggiamento molto più lasco nei confronti dei debiti. Si è avvocato a sé in fondo la ricostruzione di questo recovery plan in maniera molto concreta, molto decisa. Bisogna solamente dargli un po' di tempo. Stiamo parlando di un uomo che con tre parole ha salvato l'Europa. Quindi, insomma, la fiducia in lui è massima. La sua reputation parla da sola. E quindi bisogna appazientare ancora un po'. Grazie.